Da oggi 41 comuni abruzzesi sono in rosso, la maggior parte della Marzica e molti nell'Aquilano, nella zona est. Il governatore Marzillio ha risposto ai sindaci dicendo che le polemiche non servono. Serve piuttosto rispettare le regole per evitare che l'esplosione dei contagi possa trascinare il rosso tutta la regione. Alcuni si erano lamentati per una mancata comunicazione. All'Aquila intanto, nonostante i numeri, continuano nel fine settimana le scene di assembramenti con casse di birra e bottiglie. Per questo il sindaco Biondi è stato costretto ad emettere un'ordinanza antimovida che vieda di consumare alcolici e spazi pubblici dalle 18.30 alle 5.00. La città in tutto questo è il lutto per la scomparsa a causa del Covid di Massimo Cutitta, detto Maus, cuore della mischia dell'Aquila Rugby alla fine degli anni Ottanta. Azzurro fino al 2000 era tornato nel 2016 all'Aquila per l'allenare la mischia neroverde. La città oggi lo piange, tantissimi messaggi di cordoio. Sul fronte vaccinazioni invece, il problema della mancanza di dosi era emerso nell'Asl dell'Aquila dopo l'allarme lanciato dal direttore del Dipartimento Prevenzione Domenico Pompei. Così si è innescato per aiutare l'Asl A1 un meccanismo di mutuo soccorso delle altre asle per far arrivare i vaccini e andare avanti, ma comunque si sono rimandati un centinaio di appuntamenti. Dal 19 al 26 aprile ci saranno le prime vaccinazioni alla categoria di persone dai 75 ai 79 anni, ma si registrano molte rinunce per AstraZeneca. In larga misura abbiamo risolto con un soccorso che è provvedente dalle marche, che è arrivato ieri, una quota di circa 1000 dosi di Pfizer, che quindi ci ha consentito di non fare rinvii sui richiami, sulle seconde dosi di oggi e di gran parte di domani, perché purtroppo non ce la faremo a coprire integralmente i richiami, quindi probabilmente un centinaio di persone dovranno essere rinviate a dopodomani o giovedì, insomma, eventualmente. Inoltre abbiamo avuto un soccorso pure dalle altre asle regionali e in mattinata dovrebbe arrivare un migliaio di dosi di Moderna, che ci considererà di fare le prime dosi e quindi di non rinviare gli appuntamenti presi per oggi e per domani. Tra l'altro abbiamo dovuto spostare gli appuntamenti che erano previsti per stamattina, ad oggi pomeriggio, per le prime dosi, proprio in attesa dell'arrivo delle dosi di Moderna. E in più è previsto l'arrivo di un vassoio aggiuntivo di Pfizer da parte della struttura commissariale per domani. Le rinunce ci stanno, a volte sono dell'ordine del 20-30%, a volte anche di più, del 40%. Grazie a tutti.